Musica Buonasera cari amici, benvenuti a questo nuovo appuntamento dedicato alle elezioni nazionali. Mancano davvero pochissimi giorni, siamo allo sprint finale il 24 e il 25 febbraio. Siamo tutti chiamati alle urne per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e dunque per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Due giorni importanti, il 24 e il 25, in cui dicevo tutti dobbiamo andare a votare perché, sapete, numeri non se ne possono dare da due settimane a questa parte, è vietato qualsiasi sondaggio, ma un numero quello ve lo possiamo fornire, che è quello degli incerti. Tanta la gente che ancora non sa se andrà a votare, né tantomeno per chi votare. Ed allora per aiutare soprattutto gli indecisi noi diamo vita ogni giorno a dei dibattiti diversi per ascoltare tutte le forze politiche e tutte le espressioni politiche. Ed è per questo che oggi abbiamo dato vita ad un nuovo dibattito con appunto diverse espressioni del mondo della politica e con diversi candidati e della Camera e del Senato. Quindi io saluto subito i miei ospiti, li ringrazio per essere qui, per aver accettato il nostro invito e parto dalla mia sinistra ringraziando Giuseppe Scrivano, candidato alla Camera con la Lega Nord. Buonasera e grazie. Grazie e buonasera anche a Giovanni Villeri, candidato invece al Senato con la lista megafono di Crocetta. Buonasera. Buonasera. Buonasera a Salvo di Salvo, candidato Udc alla Camera per ovviamente la Sicilia Orientale. Buonasera. Buonasera a lei. E buonasera anche a Giovanni Lamagna, candidato anche a Ili per la Sicilia Orientale alla Camera con il PDL. Buonasera e grazie. Buonasera e grazie. Io comincio subito dalla mia sinistra partendo da lei, Giuseppe Scrivano, lei è candidato alla Lega Nord. Sembra un po' strano in Sicilia sentir parlare di un candidato della Lega Nord. Lui innanzitutto ci spieghi perché questa scelta, cosa l'ha convinta ad accettare quello che è il progetto di Tremonti e di Maroni? Lui è sempre strano ma personalmente da sempre ho guardato con interesse ai partiti di carattere regionale. Le esperienze passate dei partiti come ad esempio l'MPA o Grande Sud hanno dato scarsi risultati e ho sempre visto la Lega come un modello perfetto, nel senso della politica a disposizione e al servizio del territorio. Noi qui assistiamo ancora ora perché ieri sera chiedevo in tutte le riunioni che ho fatto agli elettori, ma conoscete i vostri deputati di riferimento, conoscete i senatori eletti in questo collegio, nessuno conosce i deputati e i senatori, evidentemente non abbiamo avuto una politica al servizio del nostro territorio. Se lei chiede al Nord chi sono i deputati e chi sono i senatori, conoscono tutti i deputati e i senatori perché sono al servizio del territorio. Allora io non sono della Lega, io sono uno che ama la mia terra, amo questa terra, voglio importare in questa terra il modello della Lega Nord, nel senso della politica a disposizione del territorio. Subito dopo abbiamo già pronto il simbolo della Lega del Sud federata alla Lega Nord, perché i partiti piccoli sono risultati deludenti, per non dire altre cose, e hanno un merito, soprattutto i due partiti che citavo poco fa, hanno il merito di avere portato Crocetta al governo della regione, perché Crocetta è col 13% grazie a Lombardi e a Miciche che governa la regione Sicilia in questo momento. Perciò se dobbiamo attribuire un merito a questi partiti regionali o un servizio che hanno fatto alla regione Sicilia, questo servizio hanno fatto nel portare Crocetta presente alla regione. Io non ho votato Crocetta, però ancora non mi permetto di giudicare il governo Crocetta, che tutti aspettiamo possa fare bene per la regione Sicilia. Su Crocetta potrà rispondere Villari sicuramente meglio di me, però io le faccio una domanda un attimino provocatoria, quindi lei si batterà come si stanno battendo i suoi colleghi nel nord per lasciare le tasse in Sicilia, perché la Lega chiede questo, che le tasse rimangano in Lombardia piuttosto che in Veneto. Certamente, certamente. Noi ce la possiamo fare? Noi ce la possiamo fare, siamo una regione a statuto speciale e a noi viene anche più facile raggiungere questo obiettivo. Villari, su Crocetta in generale, su quella che è la posizione invece della lista megafono? Tra l'altro proprio oggi Lombardo in una dichiarazione ha detto che Crocetta è un illusionista, sa dire solo menzogne, che non riesce a portare avanti un progetto concreto. Lombardo è bravo, anche perché è il suo mestiere quello di illudere la gente, quindi non mi stupisce che lui sia un esperto nel dare valutazione di questa natura, peraltro siccome l'abbiamo conosciuto per quasi cinque anni, quindi abbiamo avuto tale e tale esperienza da poterlo eleggere ad esperto nel giudizio verso gli altri. Io devo dire che la che chiede di Calombardo e altri, l'esperienza di Crocetta è un'esperienza straordinaria. Vorrei ricordare che abbiamo votato a fine ottobre e che siamo arrivati a 80 giorni di governo di governo Crocetta. Crocetta ha iniziato una fase, lui e il suo governo, una fase di grande pulizia. ha iniziato, non ha completato, ha iniziato una fase di grande pulizia per mettere ordine e legalità soprattutto in alcuni assessorati. Occorre fare di più, occorre fare ancora più approfonditamente questo lavoro, ma è stato forte questo lavoro e ha determinato un impatto anche di simpatia che io vedo, noi ci accoggiamo di essere abbastanza diffusa tra la gente e vorrei dire anche che la stessa elezione di Crocetta è stato un fatto dirompente nel panorama regionale. Nessuno si aspettava un successo di Crocetta e comunque una sua elezione, diciamo poi si può ritenere limitato il successo dal punto di vista dei numeri, ma Crocetta è stato eletto, ha superato Musumeci, questo è quello che conta, che ha superato Musumeci e è stato eletto presente nella regione. A Catania, che è la patria di Musumeci, vorrei ricordare che a Crocetta la differenza fra i musumeci è stata solo del 4%. Ma tutti coloro che in questo momento stanno passando con Crocetta, lo fanno perché credono nel progetto megafono o perché è facile sedire sul carro dei vincitori? Ma io guardi, non ho un problema a dirle che sono forse tutte e due le cose, ci sono tante persone che abbiamo contattato, io stesso con le quali ho parlato, anche il nostro coordinatore provinciale che è arrivato dopo di me e che sta continuando questo lavoro di contatto, riceve pressione, sollecitazione per aderire al momento il megafono, l'Ista Crocetta e devo dire che ci sono nella gran parte dei casi persone convinte, perché la Sicilia si aspettava dei segnali dirompenti e vorrei ricordare che i segnali dirompenti sono il fatto di dire le cose e farle, dire faccio la riforma degli atti e la riforma degli atti è fatta, dire faccio la legge sulla pubblicizzazione dell'acqua e se è fatta, dire attiviamo subito i fondi per le zone franche urbane per esempio, sono stati recuperati 6 miliardi, 6 milioni per le 17 zone franche urbane tra cui c'è il Librino che permetteranno alle piccole imprese, alle imprese artigiane di investire a tassi, noi agevolati diciamo a tasso zero per i primi 5 anni, cioè c'è stato, io vorrei ricordare, finisco la battaglia del MUOS, la battaglia contro il MUOS, l'installazione del MUOS, il satellitare militare, è una battaglia non solo perché la Sicilia sia autonoma rispetto a operazioni militari, ma in generale sancisce il fatto che l'autonomia della Sicilia deve essere rispettata perché come veniva ricordato lo statuto della Sicilia è uno statuto autonomo, quindi su questo voglio dire non dobbiamo cogliere il valore di questo fatto, io non credo che altri presidenti della regione, Cuffaro, Lombardo, avrebbero mai fatto quello che Crocetta ha fatto in pochi giorni, in 80 giorni. Dovremmo chiedere a loro ma è impossibile chiedere. Ed è un fatto straordinario. E di salvo questa dicotomia all'interno dell'Udc, in Sicilia appoggiate il governo Crocetta a livello nazionale, invece voi siete con Monti, sostenete il progetto di Monti, potrà essere poi un danno per la Sicilia? Come si dovrà comportare l'Udc? Quale sarà lo spirito poi guida? Io non credo che potrà essere un danno per la Sicilia e per l'attuale governo perché noi abbiamo sostenuto dal primo momento responsabilmente, con convinzione, con partecipazione, convinti che qualcosa possa cambiare e di poter dare un contributo serio e importante, l'attuale governo della regione siciliana. Il dato elettorale di ottobre dell'Udc in Sicilia è stato un dato importante, inaspettato un po' da tutte le forze politiche, un partito che si attesta il terzo partito della regione, un partito che ha espresso una classe dirigente di deputati importanti e notevoli. A livello nazionale, sul quadro nazionale, noi abbiamo assunto quel ruolo che ormai dal 2006 e abbiamo preso questo impegno con gli elettori, noi vogliamo essere la forza di centro, vogliamo essere la forza cattolica moderata, abbiamo ritenuto opportuno e importante mantenere questo ruolo, non abbiamo mai ceduto ai richiami dei governi nazionali scorsi, dei presidenti del Consiglio prima di Monti che in un momento di crisi di maggioranza stuzzicava noi in cambio di un ministero o altro, siamo stati coerenti con i nostri elettori, adesso presentiamo una proposta politica alternativa, importante, responsabile, onesta nell'interesse dell'Italia e degli italiani. Ma forse, mi scusi, non la pensano proprio così gli italiani e i catanessi considerando come il presidente Monti oggi a Catania è stato contestato, diverse le parole forti che sono volate proprio all'indirizzo del presidente Monti, vi hai visto come il capo di tutti i mali. Allora io le dico questo, Monti non era un politico, ne rappresentava un partito. Monti nel 2012 fu chiamato dal presidente napolitano in qualità di esperto economista e gli fu dato un incarico responsabile. Eravamo in un momento in cui l'Italia era al defotto, eravamo in un momento in cui in Italia si rischiava il caso della Grecia, migliaia e migliaia di persone hanno assaltato il palazzo delle istituzioni in Grecia, migliaia e migliaia di persone, dipendenti statali, si sono ritrovati senza lavoro, migliaia e migliaia di persone non hanno ritrovato più i loro soldi perché le banche hanno chiuso e non più i proprietari di casa. Qui c'era una situazione di disastro, vi ricordate anche il rapporto con la Germania e la Francia, l'Italia non era più credibile perché si parlava in Italia quando c'era Berlusconi solo del Bunga Bunga, solo di Rubin, solo della Minetti o solo di tutti gli scandoli che purtroppo hanno fatto in modo che l'intero monto, la stampa internazionale, la stampa europea e la stampa nazionale non facevano altro che deridere l'Italia. Lui, Monti, è stato messo lì e come persona responsabile, da buon padre di famiglia dico ha agito in maniera responsabile, probabilmente con delle azioni rigorose, talvolta impopolari, però voglio ricordare che Monti non rappresenta e non rappresentava un partito in Parlamento, ogni sua proposta è stata una proposta votata dalle forze politiche che lo hanno sostenuto e fra le forze politiche che lo hanno sostenuto c'era il PDL in primo, c'era il nostro partito l'Udc, c'era il PD e c'erano tutte le altre composizioni di piccoli e medi partiti di rappresentanza anche autonomiste. Tutti si sono ritrovati attorno a quell'azione di Monti che sicuramente è stata di una tassazione probabilmente eccessiva, ma necessaria per poter riequilibrare i conti dello Stato. Oggi noi viviamo in un paese in cui rispetto ai paesi della comunità europea abbiamo ristabilito un principio di credibilità, alla pari rispetto alla Germania, alla pari rispetto alla Francia. Abbiamo una situazione delle casse della nostra nazione che sono quasi in equilibrio. Adesso probabilmente si potrebbe un po' cercare di ritrovare una soluzione equilibrata per poter rimodulare anche le tassazioni, leggerille, favorire le imprese, non gravare più sui cittadini, non gravare più l'aumento dell'IVA come è stato previsto dal 1 luglio. C'è una fase adesso di ripresa, c'è una fase indispensabile di crescita e di sviluppo del nostro paese negli interessi di tutti, degli italiani in particolar modo, negli interessi di questo mezzogiorno che è sempre soppresso da una crisi economica che dà una mancanza di sviluppo industriale ed è una mancanza di sviluppo territoriale. Io le faccio una battuta per poi passare la parola alla magna. Di credibilità però non si mangia perché ci sono padri di famiglia che non arrivano alla seconda settimana. Benvenga, la rivalutazione dell'Italia, gli occhi all'Europa, lungi da me dall'emettere giudizi di qualsiasi tipo politico, però è anche vero che c'è gente che è disperata. Stamattina, ribadivo, lo abbiamo visto, lo ha testimoniato la nostra collega con un servizio padri di famiglia che per la spending review non riescono neanche più a dare il cibo ai loro figli, tagli indiscriminati, soldi che dallo Stato non arrivano alle casse comunali. Ci sarebbe tanto da discutere e per Monti e per chi c'è stato prima di lui e che forse anche per chi verrà, perché in campagna elettorale le promesse sono facili, poi bisogna vedere quanto si attua. Io le dico questo, se mi permette. Lei pensa che tutto questo è responsabilità di un anno di governo, tutto questo è responsabilità di dieci anni di governo Berlusconi? Allora le rispondo secondo me alla responsabilità di 900 parlamentari che ci sono stati a Camera e Senato. Lei pensa che se ci siamo ritrovati in questa fase di crisi, in questa fase di crisi la responsabilità è di chi ha cercato, anche come dicevo poc'anzi, con azione rigorosa e impopolare di ristabilire un equilibrio oppure di chi è stata la causa del dissesto dell'Italia. Lei pensa, lei pensa, lei pensa, mi sembra più che giusto, mi sembra più che ovvio, mi sembra più che ragionevole, non ritengo che la responsabilità sia totalmente di Monti. Monti ha dovuto agire da responsabile, da buon padre di famiglia, da colui che in qualche modo si è ritrovato in una situazione di difficoltà, agito da tecnico, agito da esperto economista, agito nell'interesse dell'Italia e degli italiani. Purtroppo si è dimenticato cosa succedeva un anno e 11 mesi fa quando Berlusconi salì a Quirinale a depositare il suo mandato a Napoletano. Da un lato c'eravate voi, gli emittenti che inquadravate tutte quelle macchine di scorta che arrivavano al Quirinale, dall'altro lato c'erano le piazze delle città d'Italia che festeggiavano perché finalmente Berlusconi era andato via. Io voglio ricordare, voglio riportare la memoria di chi ci ascolta e di chi ci segue a quei momenti, voglio riportare la memoria di chi ci ascolta e di chi ci segue nei momenti in cui aprivamo i giornali e non leggevamo nulla di utile per l'Italia se non gli scandoli e tutto ciò che succedeva e accadeva ad Arcore, tutto ciò che succedeva di privato nella vita di Berlusconi che ha fatto in modo che l'Italia perdesse di credibilità. Questo è il dato reale. Quello è tutto un discorso sulla comunicazione che non è questa la sede più adatta, però la Magna vedevo che lei sorrideva in alcuni interventi che faceva il collega di Salvo. Sorridevo per tanti motivi, intanto perché è facile criticare il governo che c'era prima senza avere il coraggio di dire quello che è stato fatto in quest'anno. In quest'anno noi abbiamo assistito a un governo tecnico che è voluto diventare politico per una motivazione, perché ha avuto piacere a gestire il potere, con una differenza che al posto di fare delle leggi quanto meno popolari ha voluto premiare soltanto il governo delle banche, abbiamo visto cosa hanno fatto con la Monte Paschi di Siena e abbiamo visto ancora oggi cosa sta avvenendo in Italia. In Italia noi stiamo assistendo a una parte della popolazione che ha deciso di fare politica dietro il web. Non voglio fare pubblicità a nessuno, però che è facile protestare, è facile dire che va tutto male, che bisogna soltanto lamentarsi, che non bisogna passare all'azione. E invece un'altra parte, una parte invece dell'altra che sicuramente non fa parte del nostro partito, che ha deciso di usare come programma di governo un'unica cosa, parlare male di Silvio Berlusconi, parlare male del popolo della libertà, dire che tutto ciò, anzi fare in modo che il nostro programma fosse anche loro, però poi vederla al contrario. Oggi gli italiani hanno capito e soprattutto noi siciliani abbiamo capito che la cosa non funziona, che non va bene più così, che ci vogliono proposte, ci vogliono progetti e soprattutto ci vogliono programmi. Io ho l'onore di rappresentare il popolo della libertà, che è un partito che ha premiato i siciliani prima di tutto. Vi faccio un esempio, nel nostro partito noi abbiamo avuto il Presidente del Senato, Schifani, che nonché a ricoprire la seconda carica dello Stato, ultimamente abbiamo avuto l'elezione al partito, come capo dell'autorazione del Partito Popolare Europeo di Giovanni Lavia, che è anch'esso siciliano, anzi proprio nella nostra provincia, proviene proprio dalla nostra stessa esperienza politica. Io sono sicuro che i siciliani, ma più in generale gli italiani, premieranno il nostro partito non solo per la scelta degli uomini, che penso molto spesso siano stati davvero degli ottimi amministratori, ma perché realmente l'unica proposta concreta e reale è la nostra. Parlare male degli altri, abbiamo visto che oggi in Italia dovremmo aspettare il 25 febbraio per sapere che probabilmente riusciremo a avere la fiducia degli italiani e portare in Parlamento le nostre proposte e finalmente poterle anche realizzare. Proprio scusami, ho avuto anche tanti ministri siciliani che alla Sicilia hanno pensato poco, giusto per dovere di donna che è per obiettività. È giusto anche dire, sicuramente alcuni ministri l'hanno fatto bene, ma chi è che ha fatto bene? Monti? Cosa ha fatto per la Sicilia? Scusatemi che qui qualcuno oggi si alza. Fare il governo dei pochi è facile, fare il governo delle banche è semplice. Nessuno considera che in campagna elettorale tutti ne parlano e poi domani pochi se ne ricordino. Il mio amico Di Salvo, con cui oggi ci troviamo a essere qui quest'oggi e rappresentare partiti diversi, ma sicuramente siamo, prima di tutto, abbiamo un rapporto umano che è stato consigliere comunale, può riconoscere il governo Berlusconi nel 2008 ad aver mandato 150 milioni di euro per salvare Catania dal dissesto finanziario e questo non è una cosa da poco, salvare Catania dal dissesto finanziario. Se pensate che se Catania avesse dichiarato dissesto significava il fallimento della nostra città, immaginate cosa sarebbe successo. Ma non è questo, oggi bisogna pensare realmente al futuro, oggi l'Italia deve scegliere e vedremo cosa sceglierà, forse ne parliamo più avanti. Ma il dissesto a Catania che l'ha creato? Il dissesto secondo me l'ha trovato il malgoverno e anni e anni di assunzioni scellerate, fatti da un po' tutti i partiti. Io oggi non voglio parlare chi c'era prima, oggi dobbiamo pensare... Ma secondo me la colpa, la mia domanda era per capire che la colpa non è mai secondo me di uno solo, perché come abbiamo detto 900 parlamentari che potevano controllare cosa succedeva al Parlamento e decidere se fare o meno una legge, allo stesso modo a Catania c'erano 45 consiglieri che potevano notare che si stava creando un deficit di quasi un miliardo di euro a Catania e nessuno ne ha mai parlato e tutto ne ha tessuto. Sicuramente oggi Catania nel passato è stata mal gestita, oggi abbiamo assistito a un sindaco che invece ha fatto delle scelte coraggiose proprio tagliando dei costi alle volte che potevano sicuramente essere eliminati, ma oggi sicuramente il vero problema oggi della Sicilia è capire da dove bisogna ripartire, cosa bisogna scegliere. Cioè oggi chi è, anzi dell'Italia, oggi realmente chi è che può creare sviluppo? Cioè se non chi vuole abbassare le tasse e vuole creare occupazione favorendo l'impresa giovanile? Io ho 27 anni, vengo da un'esperienza politica dal basso, oggi ho l'onore di essere uno dei componenti della lista della Camera dei Deputati e vi assicuro che un grave problema per tutti i miei amici è quello di non avere un posto di lavoro, ma oggi realmente chi è che può creare occupazione? È chiaro, è chiaro, soltanto noi possiamo creare occupazione, è messo nel nostro programma di governo, soltanto è inutile ancora sentire parlare Monti aumentando, aumentando, aumentando le tasse o favorendo le banche, favorendo le imprese e per non parlare della sinistra, cioè a oggi io vorrei capire Bersani qual è il suo programma di governo, perché ultimamente l'unica cosa che ha saputo dire è che tutto ciò che diceva Berlusconi era sbagliato. Io devo chiedervi un attimo di pazienza perché devo lanciare la pubblicità, solo qualche minuto di pausa e poi ci rivediamo subito dopo.